Ennesimo allarme e inquinamento per quanto riguarda l'acquifero del Gran Sasso. Sotto accusa, ancora una volta, il laboratorio posto nel cuore della montagna, quello dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. L'Arta a febbraio ha trovato in un pozzetto denominato INFN Laboratorio del 1,2,4 trimetilbenzene, che peraltro è una delle sostanze usate nell'esperimento borexino, lì ce ne sono 1.292 tonnellate, e poi in giorni differenti ha trovato anche un altro solvente, l'Esano. Fortunatamente i livelli di contaminazione non appaiono così pericolosi per la salute dei circa 700.000 abruzzesi che utilizzano l'acqua del Gran Sasso, ma questa vicenda dovrà fungere da monito. Potrebbe infatti verificarsi un incidente che mette a rischio l'intero acquifero, un ennesimo sfregio al patrimonio naturale abruzzese. E lì, se accade un incidente, potrebbe essere contaminato l'intero acquifero che rifornisce l'aquila, tutto il terramano e una parte del pescarese. E questo perché il laboratorio utilizza sostanze tossiche vietate per legge, che evidentemente non è in grado di gestire. Infatti gli scienziati si sono sempre detti estranei alle contaminazioni dell'acquifero, ma questo non è ciò che emerge dal rapporto dell'Arta. Per mettere in sicurezza il territorio occorrerebbero lavori da somme da capogiro. Si parla di decine e decine di milioni di euro. La perizia della Procura di Teramo ci dice che per esempio le sale non sono impermeabilizzate, eppure ancora oggi i vigili del fuoco sostengono in un documento che sono impermeabilizzate. La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta e l'acquifero è stato commissariato. Negli ultimi quattro mesi, però, nonostante le pressioni della regione, il Governo nazionale non ha ancora provveduto a nominare ufficialmente il commissario. I laboratori sono un'eccellenza della ricerca, per carità nessuno lo nega, però devono avere dei limiti, e questi limiti sono imposti dalle norme e dal buon senso anche. Mettere 2.000 tonnellate di sostanze pericolose a fianco all'acqua che bevono 700.000 persone non è un'azione di buon senso, quindi i ricercatori se ne devono fare una ragione.